1 febbraio 1980. Muore in un incidente sulla via Appia Antica Romolo Valli. Grande attore di teatro e di cinema, fonda nel 1954 la Compagnia dei Giovani con Giorgio De Lullo, Rossella Falc e Anna Maria Guarnieri, uno dei più importanti e duraturi esempi di compagnia teatrale privata di alto profilo professionale. Memorabili le sue performance pirandelliane, da sei personaggi in cerca di autore a Enrico IV. Ma, che sono? Glorsignori, cosa vogliono? Siamo qua, in cerca di un autore. Di un autore? E che autore? D'uno qualunque, signore. Ma qua non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. Tanto meglio, tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi la loro commedia nuova. Oh, senti, senti. Già, ma se non c'è l'autore. Tranne che non voglia essere lei, signore. Lorsignori vogliono scherzare. No, che dice mai. Le portiamo al contrario un dramma doloroso. E potremmo essere la sua fortuna. Ma mi facciano il piacere di andare via. Eh? Perché noi non abbiamo tempo da perdere coi pazzi. Signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parere verosimili, perché sono vere. Ma che diavolo dice? Dico, signore, che può stimarsi realmente una pazzia, sforzarsi di fare il contrario, cioè crearne di verosimili perché paiano vere. Ma mi permetta di farvi osservare che se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del loro mestiere. Ma cosa è? Ah, sì? Ah, perché le sembra un mestiere da pazzi, il nostro. Eh, far parere vero, quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco.